Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 assessori dell'Aggiunta regionale. Questa mattina è avvenuta la presentazione a Palazzo d'Orleans, dove il presidente Schifani ha firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori davanti all'Assemblea regionale siciliana. Ecco l'elenco completo con le relative deleghe. Luca San Martino, catanese, 37 anni, assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Edmondo Tamayo, palermitano, 46 anni, assessore alle attività produttive. Andrea Messina, catanese, 57 anni, assessore alle autonomie locali e funzione pubblica. Elvira Amata, messinese, 53 anni, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana. Marco Falcone, catanese, 51 anni, assessore all'economia. Roberto Di Mauro, agrigentino, 66 anni, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Nuccia Albano, palermitana, 72 anni, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Alessandro Arricò, palermitano, 46 anni, assessore alle infrastrutture e mobilità. Mimmo Turano, trapanese, 57 anni, assessore all'istruzione e formazione professionale. Giovanna Vodo, nissena, 67 anni, assessore alla salute. Elena Pagana, ennese, 31 anni, assessore al territorio ed ambiente. Francesco Paolo Scarpinato, palermitano, 49 anni, assessore a turismo, sport e spettacolo. Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite all'assessore San Martino. L'assessore Falcone è stato invece delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione. Finalmente si è conclusa questa fase abbastanza lunga, non dovuta a me, ma alle lungaggini procedurali per i conteggi degli eletti. È perché la legge prevedeva il giuramento davanti all'assemblea e ho dovuto aspettare, ha detto Renato Schifani. Da oggi si parte. Ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza. Abbiamo un'agenda molto fitta. Abbiamo un'agenda molto fitta.